Noi siamo un frisbee d'emozioni, è un po' come quando sei fermo, ti guardi intorno senza pensare a niente, è un po' come quando non ti stai controllare, è un po' come quando vorresti sparire, ma rimani lì, tra mille pensieri, tra mille emozioni. Siamo felici in un gruppo, da soli, siamo tristi, da soli non funziona, da soli siamo tristi, da soli non funziona, è come quando la rabbia ci fa star male, è quando siamo arrabbiati, non riamo, usiamo le mani, a volte ti faccio l'orale che aiutare. Donare felicità fa star bene, aiutare chi è in difficoltà da gioia. Donare felicità fa star bene, aiutare chi è in difficoltà da gioia, aiutare chi è in difficoltà da gioia. Felicità e solidarità, azzurro tristezza e rosa gioia, nero dolore e bianco pace.